Se guardate tutte le nostre posizioni anche all'interno del PPE, che erano anche quelle più dure, è sempre stata di astensione nelle votazioni perché chiedevamo costantemente di rivedere la situazione con la Russia. Diciamo che in questo momento c'è qualche apertura in più, ma abbiamo ancora della resistenza all'interno dei paesi dell'Est. Io ritengo che tutti insieme bisogna combattere l'ISIS, sia con la Turchia, sia anche con la Russia e gli Stati Uniti.